La stagione da sogno della Fidelis Andrea nel girone H di Serie D ha già lasciato spazio ad un'estate che si preannuncia rovente. Pietro Lamorte non è più l'amministratore unico di Uniti per la Fidelis, né il direttore finanziario del club. Le dimissioni sono arrivate lunedì sera, nel corso dell'ultimo incontro tra i soci della SRL che gestisce il 90% delle quote bianca-azzurre. La decisione è arrivata dopo le divergenze societarie degli ultimi giorni, in particolare tra lo stesso Pietro Lamorte e il presidente federiciano Aldo Roselli. Sul tavolo della discussione il futuro finanziario del club, alla luce dell'ottimo campionato appena concluso e delle ambizioni che ovviamente ne derivano. A ciò si aggiungono i ruoli societari da ridisegnare per la prossima stagione, che adesso, senza la morte in società in Uniti per la Fidelis, diventa un argomento centrale nel futuro della dirigenza. Sui social è emersa tutta la preoccupazione della piazza andriese, che soltanto pochi giorni fa elogiava squadra, staff tecnico e tifoseria, dopo aver sfiorato la vittoria nei play-off contro il Picerno, contro ogni pronostico. Oggi, invece, si chiede chiarezza su una serie di punti interrogativi emersi insieme alla società, che dopo la riunione di Uniti per la Fidelis ha perso un pezzo fondamentale come Pietro Lamorte. Tra i vari punti di discussione, anche la gestione del settore giovanile. La palla passa adesso interamente a Roselli, che dovrà colmare la lacuna, insieme al vicepresidente Catapano. Sarà necessario non solo assegnare nuovi ruoli societari, ma anche chiarire i piani economici che attenuano adesso la Fidelisandria, garantendo alla tifoseria un futuro certo, leale e dispessore per non vanificare quanto di buono fatto in quest'annata.